C'è l'idea a sognare? Sognare di cosa? Un muro! Ma si è sognato! Che dicono? Non capisco, non sento! Come? Ma si è sognato un muro! Ha sognato un muro! Ma si è sognato un muro! Ero lì che sognavo un muro! Ero... Sono morto, no? Sì! Sono morto, eh! Sono morto! Ma si è sognato che era morto! Chi è morto? È morto, si è morto! E adesso è Militina! È morto, basta! Nel sogno! Militina! Ha un certo punto! Eh, Militina qua! Che è a Napoli, no? Dice che è morto! Chi? Militina! È morto, Militina! È morto al manicomio, Militina! Ma no, chi non è morto al manicomio, Militina! Il Militina qua! Grida! Ma che ti dici, Militina? Militina gridava! Dice, ma spacchiamo su tutto, andiamo dentro! Andiamo dentro! Ma sì, spacchiamo su tutto, occupiamo il paradiso! Come? 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 Lo so io, questo, no? Dentro il muro, dall'altra parte del paradiso! Dice, spacchiamo sul tutto, andiamo dentro! dico vai, io non dico niente, io non dico niente, e insomma ho una visione tremenda, una visione tremenda, pensa che c'era uno, con la testa da una parte e colpa 10 metri di distanza, la visione è tremenda, guarda, guarda, la ritorno io, guarda, è giù contro questo muro, è giù contro questo muro, è giù contro questo muro, è giù contro questo vai, è muro andato giù, è muro andato giù, è muro andato giù, si va bene, cosa c'era, cosa c'era, dietro sto muro, la nebbio c'era, che nello, muro e nebbio, si ma che c'era in questa nebbia, prima niente, poi ho cominciato a guardare e ti ho visto lì in su, il mini militì, eh, il militì, chi è il militì, uno che lo vuole come, poi ho visto un manuale, ho visto un pirra con un dito di me e ho detto, ma chi è quello lì, penso, ma quello lì sorridio, porca vacca, voglio rimbararlo, uno a uno siete venuti avanti tutti, vai, ce l'avevamo noi altri, ce l'avevamo noi altri, nel muro, nel polverone, nella teglia, ce l'avevamo noi cosa vuol dire, cosa vuol dire, cosa vuol dire, tre e sei e quarantadue, che hanno secolo, e non mi, sei e sette e quarantadue, e? sei e sei e quarantadue, ho detto a capire quello lì, cosa vuol dire, cosa vuol dire, vuol dire che se c'è il muro, la puntaggione, la puntaggione, ho, cosa vuol dire, no, non può dire cosa vuol dire, ho detto quello lì, porca, cosa vuol dire? io ho capito, ma sono io che non ho ancora capito, te, chi sei, che lo voglio mettere, giù subito il muro, ecco che sono, ma non so, mi sembro, certo, e dove è vero, dove è vero, nella nebbia, nella nebbia, ma perché c'è la nebbia? Ma non lo so se ce l'è anche te, ma c'è qui che sei a Copimo. Ma sì, cosa mi importa? Ho fatto un pello per sogno ora. Ma ricordi, è io? Guardi, non ce l'avevo io, c'era nessuno. C'era nessuno, come non vedo. C'era nessuno, come non vedo. C'era nessuno. C'era nessuno, come non vedo.